ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale oggi ci tenevo a mostrarvi questi orecchini che ho realizzato in giugno per una cerimonia devo dire che mi piacciono molto perché sono molto semplici e sono realizzati anche a partire da materiali molto semplici con una tecnica mista per realizzarli ho utilizzato praticamente soltanto delle rocai 11 0 quelle azzurre che vedete sono il duracote galvanize capri blu della miyuki mentre quelle dorate sono una stack gold sono il numero mi pare 33 della matubo sono delle panine della matubo vi consiglio tantissimo le capri blu delle miyuki perché secondo me sono veramente bellissime mentre le stack gold della matubo sono un pochino delicate infatti io ho utilizzato questi orecchini potrete vedere che una delle perline del perno è abbastanza rovinata i perni sono in zama un materiale che a me piace perché non mi dà allergie al contrario di tanti altri materiali voi sapete che io ho problemi di allergie e con questo mi trovo bene ho utilizzato un cabochino artigianale da 18 mm leggerissimo e delle gocce che sono in acrilico sono leggerissime anche queste le gocce le avevo comprate tanto tempo fa a una fiera e devo dire che mi dispiace tantissimo non averne comprate di più perché queste sono le ultime che ho e sono veramente belle di buona qualità non si sono rovinate mai un ottimo acquisto era stato quella volta l'unico altro materiale nella zona della tessitura diciamo sono i mezzi cristalli da 4 mm che ho preso in color aztec gold appunto e in color azzurro sempre quello che volevo realizzare erano degli orecchini che fossero eleganti un po classici però comunque portabili e secondo me ci sono riuscita abbastanza bene e io sono molto contenta del risultato sia perché con questi materiali sono veramente leggeri sia perché comunque non sono troppo impegnativi a mio parere fatemi sapere se siete interessati al tutorial io so che ve ne devo già tanti di tutorial ma prima o poi riuscirò a realizzarli tutti abbiate fede io cerco di averla anch'io mi dispiace perché sono sempre un po assente però faccio il possibile detto questo quindi io vi saluto e vi ringrazio tantissimo perché mi seguite ancora avete molta pazienza alla prossima ciao ciao